Svelata l'umanità verso la fine del 2022 e rimasta praticamente in trend per tutto il 2023, anche se in una fase esplorativa, è ormai chiaro che l'IA è qui per rimanere. Il 2024 sarà l'anno della concretizzazione di molti punti già visti. Cerchiamo quindi di capire le novità che ci attendono per quest'anno nel settore dell'intelligenza artificiale che in realtà entrerà in molti, se non tutti, gli altri settori tecnologici e non. Lasciate un mi piace, iscrivetevi, trovate i capitoli, si va! L'IA è già stata usata per aiutare i criminali informatici a mettere a segno più attacchi durante lo scorso anno. Ma non è solo l'aiuto nella programmazione in cui l'IA può fare la differenza, bensì è nell'ingegneria sociale. Tutti gli attacchi informatici più devastanti nella storia pongono le loro basi nell'incapacità delle persone normali, tutti noi, di capire quando siamo davanti a un inganno. Tutti quelli che cliccano sulle mail di phishing sono un classico esempio. Ma il modo in cui l'IA può non solo ad oggi iscrivere alle persone, ma può anche parlare, può anche creare degli avatar super realistici. Questo rappresenta un rinnovato e grande rischio. Se prima era come dire il singolo pirata informatico che cercava di recuperare delle informazioni importanti per inserirsi all'interno di un sistema, rubando, carpendo queste informazioni da persone reali con mail finte o chiamate finte, ecco domani, anzi già oggi in realtà, è possibile che un sistema informatico, un'intelligenza artificiale, possa già parlare e spacciarsi per altre persone, per avere più facilmente delle informazioni cruciali che possono essere utili ai pirati informatici. E il problema è che questi IA potranno oggi farlo in contemporanea con centinaia, con migliaia di persone, moltiplicando la forza dell'attacco e di conseguenza la percentuale di successo. Quindi l'IA è un grave rischio per tutti noi e per le aziende, perché rappresenta una grande facilitazione per i criminali informatici. Il 2024 proporrà moltissime sfide per tutti noi che dobbiamo capire come proteggerci, dobbiamo migliorare il nostro sapere tecnologico e come dire il grado di allerta in cui dobbiamo stare. Le aziende dovranno fare la loro parte chiaramente, ma non solo migliorando i sistemi di sicurezza, ma anche migliorando le conoscenze dei propri dipendenti, o addirittura migliorando il livello, la complicazione del modo in cui devono gestire le informazioni sensibili. Perché più persone sono in possesso di dati sensibili, più sarà semplice per un criminale venirli in possesso. Preparatevi a vedere molti più prodotti fisici basati sull'IA. Non sto parlando in questo caso degli smartphone che integrano un assistente IA, ma sto parlando dell'uscita di veri e propri nuovi prodotti che possono basare tutto il loro funzionamento sull'IA, esclusivamente sull'IA. Inizierà veramente l'era in cui noi parleremo coi prodotti, come dire, portando un po' di fantascienza nel mondo reale. Questa non è solo una deduzione campata per aria, perché ci sono già vari segnali di questa deriva, come ad esempio l'entrata dei designer dei prodotti Apple in una società che sviluppa IA. E sono abbastanza certo che questo trend creerà addirittura una nuova ondata di criticismo generale, come viene ogni volta che noi esseri umani ci troviamo davanti a un grande cambiamento. Come esseri viventi non siamo propensi ai cambiamenti. Basta vedere ancora l'attualissima cattiva predisposizione all'accettazione del cambiamento del mercato delle automobili che sappiamo ormai si sta spostando sempre di più sull'elettrico. Probabilmente il passaggio a un mondo controllato dalla IA sarà ancora più critico, perché l'intelligenza artificiale non sarà come la possibilità di scelta di un'automobile, ma entrerà nei meandri più profondi delle nostre vite. Quindi prepariamoci all'arrivo di una nuova ondata di prodotti solo IA e nascere di un sacco di critica riguardo. È già successo, ma continuerà in maniera sempre più aggressiva e veloce. Perché se fino ad oggi l'IA ha già sostituito alcuni lavori, come ad esempio quelli di supporto ai clienti, domani non solo questo trend continuerà, ma con le nuove AI verranno sostituiti anche altri lavori. E non solamente lavori che possono essere considerati di basso profilo, cioè anche le professioni viste come di livello più alto sono a rischio. Vedi trader, vedi alcune professioni mediche, l'istruzione, la legge... Mi dispiace, ma nessuno è veramente al sicuro. Per ora siamo rimasti abbastanza tranquilli perché l'IA sperimentata ad oggi faceva errori, ma ne fa sempre meno. Siamo già arrivati all'accettazione di una legge scritta interamente da un'IA e il passo è breve per entrare in altri settori. Ho dedicato un video specifico alle professioni più a rischio con l'IA. Vi consiglio nel caso di dargli un'occhiata se vi interessa per capire quali appunto sono i settori più esposti. Ho parlato della creazione di nuovi prodotti basati sull'IA, ma siccome in questo video cerco di parlare di tutte le novità che credo saranno le più importanti nel 2024, devo citare anche l'integrazione in prodotti già esistenti. Assistenti vocali, smartphone, tv, macchinette del caffè, altri elettrodomestici, automobili e ovviamente i nostri computer. Tutti vedranno un'integrazione IA di base. Smetteremo di cercare l'email? Lo chiederemo all'IA. Smetteremo di scrivere l'email? Lo chiederemo all'IA. Smetteremo di cucinare? Lo chiederemo all'IA. Questa rivoluzione non accadrà interamente nel 2024, ma inizierà. E io consiglio a tutti vivamente di non opporsi a questa rivoluzione, perché se anche io, lo dico in maniera molto sincera, ogni tanto rimpiangono agli anni 80, meno frenetici, meno intensi, ma siccome il mio obiettivo è vivere al 100% la vita e non ritirarmi in un eremo chissà dove, allora come ho abbracciato e continuo ad abbracciare qualsiasi evoluzione tecnologica, abbraccerò anche l'avvento dell'IA. E siccome il futuro è l'IA, e su questo perdonatemi ma non c'è dubbio, iniziare ad accettarla all'interno dei dispositivi che noi già usiamo comunemente, a cui siamo abituati, sarà una sorta di entrata soft nel futuro che ci aspetta. Se non lo farete, verrete tagliati fuori. Prima o poi. Ma tutta questa intelligenza artificiale, tutte le aziende che la useranno, tutti i produttori di dispositivi o i creatori di servizi avranno tanti mal di testa da affrontare nel corso dell'anno perché le nazioni opporranno molta resistenza allo sviluppo. Vedremo il continuare a proliferare di notizie su consultazioni, proposte di legge a livello comunitario e anche a livello internazionale per cercare di limitare i rischi di quello che queste IA possono fare. Il fatto è che abbiamo già parlato di AI Act e di molte proposte di legge ma il fatto è che essendo l'IA in costante evoluzione continueranno ad essere in evoluzione anche tutte le discussioni a riguardo. La domanda è quanto sono essenziali queste leggi? La risposta è molto. Se pensate che gli scenari apocalittici di qualche film di fantascienza siano solamente appunto un oggetto di svago per qualche ora al cinema davanti alla tv, beh sappiate che invece possono diventare realtà. Non è allarmismo ma è realtà. È assolutamente necessario fare delle leggi globali. Abbiamo a che fare con un'arma di distruzione di massa se impiegata chiaramente in maniera sbagliata e come tale chiaramente l'IA deve essere legiferata. Ciò creerà immediatamente, chiaramente in parallelo, una proliferazione già iniziata in realtà di sistemi di servizi e sistemi IA illegali. Purtroppo non ci possiamo fare niente così come esiste un mercato delle armi illegale e di tutte le altre cose che si cercano di controllare però un controllo deve esserci. E preparatevi a sentire tante notizie di guerra sul copyright perché le attuali e anche quelle future per evolversi e rimanere al passo chiaramente con i tempi hanno bisogno di benzina e il loro carburante è rappresentato dalle informazioni. È abbastanza oggettivo secondo me che se un'azienda sviluppa una tecnologia immaginiamo, non so, due ingegneri che mettono appunto un tal brevetto di una nuova tecnologia è assolutamente necessario che qualcuno passi questa tipologia di informazioni ai sistemi di IA perché se non hanno queste informazioni non ne sono a conoscenza e quindi non possono utilizzarla. E solitamente oggi quelli che passano questa tipologia di informazioni sono tutti creatori di notizie, di video, di libri, di testi tecnici e via discorrendo. E qui si innesca una grande guerra del copyright dove molti attori del mercato dell'informazione non vorranno che il loro lavoro sia ceduto gratuitamente a tutti questi servizi di IA. Questa è più una questione di business piuttosto che qualcosa di etico. Quindi l'IA probabilmente diventerà una fonte di reddito per tutti coloro che potranno alimentarla. Ci sarà quindi una piccola rivoluzione in questo ambito. Anche nel mondo dei videogiochi o dei film anche vedremo un po' di novità. Sono già state presentate le tecnologie che permetteranno di rendere i videogiochi più interattivi grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E non si intende unicamente con questa cosa il poter parlare con dei personaggi, no, come con CiaGPT. Ma si parla di donare un'intelligenza agli alti reghi digitali di tutt'altro spessore. Ma non solo. Si tratta di usare le IA per generare modelli tridimensionali, musiche, effetti sonori, storie, codice. Tutto ciò potrebbe velocizzare ulteriormente la già per me frenetica industria videoludica creando però dei prodotti ancora più belli. E un po' questa cosa rientra nella perdita dei lavori, purtroppo. Ovviamente ci saranno anche molte evoluzioni in tutti i processi industriali, però in questo video ho voluto sottolineare le cose che per me avranno a che fare più con tutti noi quindi con cui intereremo maggiormente in contatto sia per quanto riguarda proprio la vita quotidiana sia per quanto riguarda le notizie che ci circonderanno ogni giorno. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao! 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 Grazie a tutti.